Manca meno di una settimana all'inizio del Carnevale Strianese 2017, ormai alla sua 34esima innessione Alle mie spalle, come potete ammirare, già ci sono gli addetti ai lavori che stanno facendo di tutto pur di rendere possibile questo nuovo Carnevale Strianese Grazie a tutti 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 Forza ragazzi e viva il Carnevale di Striano